Al villaggio Breda, nel sesto municipio della capitale, un asilo per bimbi con famiglie in difficoltà, un'iniziativa della Caritas di Roma, al servizio dei più poveri. E alla vigilia della giornata mondiale della povertà con Isabella Di Chio siamo andati a conoscere un'iniziativa della Caritas di Roma, un asilo al villaggio Breda, un servizio per le famiglie in difficoltà. Vediamo. Siamo al villaggio Breda, nel sesto municipio della capitale. Qui nella parrocchia Santa Maria, a causa nostre letizie, da alcuni mesi c'è un asilo diffuso, un progetto della Caritas di Roma, gratuito e finanziato con i fondi dell'8x1000 della CEI. Vengono ospitati 12 bambini di due anni, con loro le volontarie delle parrocchie della zona. Il lavoro che si fa è essenzialmente un lavoro di un luogo accogliente per i bambini e nello stesso tempo di un accompagnamento delle persone e delle proprie famiglie in difficoltà per fare in modo di rafforzare la propria posizione e accompagnare queste famiglie ad inserire i bambini poi nell'asilo nido comunale o in altri asili nido convenzionati. L'asilo è aperto da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sono famiglie che hanno problemi economici, infatti la maggior parte di loro lascia i bambini qui per cercare un'occupazione o per seguire dei corsi d'italiano. Un'esperienza di condivisione anche per la comunità parrocchiale. Da un segno di vita, di speranza, di futuro e poi ecco questa accoglienza in po' particolare di queste situazioni che hanno un po' dei disagi dietro per cui è molto bello anche questa accoglienza.